Il Genio Civile di Agrigento comunica che sono stati completati i lavori di manutenzione della strada provinciale 32 Ribera-Cianciana, il consolidamento dei tratti in frana, ripavimentazione stradale, restyling della segnaletica orizzontale e verticale, sono questi i principali lavori di manutenzione completati dal Genio Civile di Agrigento diretto dall'architetto Rino Lamentola sulla strada provinciale 32 Ribera-Cianciana per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro con l'obiettivo di ripristinare le buone condizioni di transito in sicurezza per gli automobilisti lungo tracciati stradali fondamentali per collegare non solo Ribera-Cianciana ma anche la strada statale 118 della cosiddetta Maremonti, la cui progettazione esecutiva per l'ammodernamento del tracciato è stata già affidata a un gruppo di professionisti per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro e nel comunicato stampa l'ingegnere Rino Lamentola, capo di Genio Civile di Agrigento, afferma che siamo orgogliosi di continuare a offrire il nostro contributo per migliorare la viabilità interna che da troppi anni purtroppo versava nell'abbattono totale e nel degrado per effetto di una grave carenza di investimenti determinate in gran parte dalla deleteria abolizione delle province regionali, oggi continua il dirigente del Genio Civile Lamentola in attuazione alle politiche adottate dal Presidente Musumeci, dall'assessore Ramo Falcone, la ragione ha assunto così l'onere di supportare il libero consorzio dei comuni agrigentini sottoscrivendo un apposito accordo istituzionale in virtù del quale tramite il Genio Civile di Agrigento durante gli ultimi due anni, oltre ai lavori appena completati sulla strada provinciale 32, ha avviato una serie di interventi che saranno peraltro completati entro il corrente mese di luglio per la manutenzione della strada provinciale 12 Naro Campobello, della strada provinciale Tratto Agrigento Consolida, della strada provinciale 35A Portella di Sciacca Luccasicola, della strada provinciale 3B Luccasicola Bivio Strada Statale 380 e della strada provinciale SP 88 che collega la strada provinciale 36 con la strada provinciale 47. Tutto questo si aggiunge anche alla progettazione eseguita dal Genio Civile di Agrigento per la riqualificazione del porticciolo di San Leone, la cui direzione dei lavori in corso è stata poi affidata al Dipartimento Infrastrutture di Palermo e i lavori progettati ed eseguiti dal Genio Civile in tempi brevissimi per il restyling delle strade agrigentine attraversate dal Giro d'Italia 2020, il Giro di Sicilia 2022 come ad esempio una su tutte il Viale Ronaldo e Sciaccia di Agrigento per un importo complessivo di risorse stanziate nell'ultimo biennio dal governo musumeci pari a circa 13 milioni di euro. Siamo consapevoli, conclude la Mendoa, del fatto che c'è ancora tantissimo da fare per colmare il gap infrastrutturale del nostro territorio ma restiamo in attesa delle grandi infrastrutture di cui la nostra terra ha bisogno.